Ragazzi pronti per oggi? Sì, sì. Che traccia speri di trovare? Non lo so, d'attualità, come sempre. Dormito stanotte? Sì, tranquillamente, diciamo, più o meno. E tu pronto? Sì, il tema abbastanza, si può fare. Che traccia speri di trovare? Anche l'attualità, se no puntiamo su storia. Stanotte com'è andata? Così, così. C'erano un po' trappezanzari. Che traccia speri di trovare? Ah, boh, non ho idea di cosa potrebbe capitare, sto andando proprio al buio. Dormito stanotte? Sì, sì, tranquillo. E voi pronti ragazzi? Una roba. Che traccia speri di trovare? Marilyn Monroe. Dormito stanotte? E diciamo di sì. Ragazzi, voi pronti? No, mica. Ragazzi, pronti per oggi? Per niente, stransio. Tu? Speriamo vada bene. Che traccia speri di trovare? Spero nella tipologia B, ma vedremo. Sicuramente non storico, niente analisi. Dormito stanotte? Sì, benissimo, non pensavo, ma è andata bene. E voi ragazzi siete pronti per oggi? Sì, sì, oggi è la prima prova, non è un problema. Che traccia speri di trovare? Ma sinceramente puntavo su fare il tema storico. Dormito stanotte? Alla grande. E tu? Pronto? Sì, certo. Quanto hai studiato in questi giorni? Eh, abbastanza, diciamo, dai. Non troppo, comunque. Non mi sono ammazzato in stile. Ragazzi, pronti per oggi? Sì, dai. È quella che preoccupa di meno. Che traccia speri di trovare? Ordine generale, se no pascoli, però facile. Bu. Stanotte avete dormito? Sì, tranquillamente. Quanto hai studiato in questi giorni? Italiano zero, perché è appunto tutto sull'attualità, però tipo le altre materie, sì, è normale che si studia. E voi pronti per oggi? Sì, oggi sì, è tranquilla. Dormito stanotte? Meglio delle altre notti. E tu sei pronto per oggi? Sì, 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 prontissimo. Che traccia speri di trovare? Boh, sul governo italiano. Stanotte com'è andata? Ho dormito tranquillo, tranquillo. E tu pronto per l'esame? Ovvio. Che traccia speri di trovare? Boh, qualcosa su pascoli, tipo, cose del genere, pascoli d'annunzio. Stanotte com'è andata? Una favola. E tu? Prontissimo? Sì, sì, pronto. Quanto hai studiato? Due ore al giorno. Stanotte com'è andata? Bene, bene, dormito. Che traccia speri di trovare? Ungaretti, i fiumi. I fiumi.